Buonasera e benvenuti al nostro TG Sport, c'è molta curiosità intorno alla nuova realtà di calcio che è stata creata a Pistoia, la Pistoia Football Club, tifosi che si sentono un po' divisi, è arrivato poche ore fa una nota da parte del gruppo organizzato dei tifosi ultra only Orange, ne leggiamo alcuni passi, il nostro comunicato all'intento di manifestare la nostra idea su ciò che sta accadendo a Pistoia, ma anche di dar voce a tutti quei tifosi della Pistoiese, e non sono pochi, che pur mantenendo il silenzio condividono il nostro pensiero, le nostre perplessità su tutta questa operazione. Si rivolgono al Presidente Signor Iorio, il nostro gruppo è costituito da persone che a vario titolo hanno fatto parte degli ultimi 30 anni della tifoseria organizzata della Pistoiese, costituendo parte attiva della vita della curva, del movimento ultracittadino. In questi anni abbiamo visto vittorie, poche e sconfitte molte, abbiamo gioito e sofferto, ma sempre animati da un unico credo, ovvero che cambiano società, presidenti, allenatori e giocatori, ma l'unica cosa che resta immutabile è la Pistoiese, la nostra fede, il senso di appartenenza alla squadra che rappresenta la nostra città, la nostra gente, la nostra vita. Il Pistoia Football Club è una squadra che, come ha detto lei, si legge nella nota, non è altro che l'Aianese riverniciata di arancione, con un nome e uno stemma, nuovi di zecca. Noi siamo tifosi della Pistoiese, finché porterà questo nome non significa niente, dunque non ci interessa, non la seguiremo. Se poi, come ha detto lei, è realmente sua intenzione ricomprare il marchio e poter legittimamente usare il nome Pistoiese, saremo disposti a rivedere le nostre posizioni sulla presenza allo stadio, anche se i dubbi restano. La sua scelta è rispettabile, perché i soldi sono suoi, purtroppo per chi vive di passioni come noi, peccato originale che la sua nuova Pistoiese abbia l'anima nero-verde e non arancione, sarà difficile da metabolizzare. Leggiamo alcuni altri passi conclusivi, dicono il progetto che ha creato un progetto divisivo, sia nelle fondamenta sia per le persone che si è messo intorno, la prima che però le auguriamo è che la città sia davvero unita, dietro al suo progetto, come le viene raccontato dal popolo social, e che è chiamato a dimostrare più di altri, viste le premesse con le quali si è imbarcato in questa avventura, ovviamente comunicato, che è firmato dal gruppo organizzato Olli Orange. E noi di Pistoiese torneremo a parlare proprio questa sera, in occasione della prima puntata di Sport d'estate, dove si parlerà, ripercorreremo un po' tutta la conferenza stampa di ufficializzazione di questa nuova realtà del Pistoia Football Club, con tante interviste, una puntata da non perdere, parleremo comunque anche di pallacanestro. Andiamo adesso al Pista di Atletica, Pistoia, perché è stato presentato il secondo meeting di Atletica Leggera, città di Pistoia. Al campo scuola di Pistoia, la società Pistoia Atletica 1983 Chiantibanca ha presentato il secondo meeting di Atletica Leggera, città di Pistoia, che si svolgerà il prossimo 22 giugno a partire dalle ore 16, sempre nell'impianto di Via dello Stadio. Quest'anno si daranno battaglia alle categorie cadetti e allievi, ovviamente sia al maschile che al femminile, e non ci saranno le rappresentative regionali, ma le singole società provenienti da tutta Italia. Quest'anno è una manifestazione sempre nazionale, aperta alla categoria cadetti under 16 e under 18 allievi, perciò non saranno più le rappresentative, ma saranno gli atleti singoli che verranno a gareggiare nel nostro impianto a Pistoia. 25 le gare in cartellone, da quelle sprint agli ostacoli, passando alle distanze lunghe e tutta la sezione dei lanci. Quest'anno abbiamo deciso di fare una cosa più ampia, quindi aprirla anche ai cadetti, e principalmente saranno cadetti della regione e delle regioni limitrefe. Sono 25 gare in programma, quindi sarà un impegno per i nostri ragazzi, per l'organizzazione abbastanza importante, dove confidiamo di avere atleti di livello che lotteranno per, oltre a vincere questo secondo meeting città di Pistoia, anche a guadagnarsi gli accessi ai campionati italiani e ai campionati europei di categoria. Il secondo meeting che facciamo, ed è quello che noi ci eravamo proposti già l'anno scorso, di fare una manifestazione che negli anni possa diventare un punto di riferimento per l'atletica toscana, ma anche nazionale. Aspettiamo circa 400-500 atleti gara, più o meno da tutte le regioni centrali dell'Italia, più qualcuno che ci ha già contattato anche da regioni un po' più lontane. Oltre 300 iscritti e questo è una forma di sport che porta economia indotto alla nostra città. Siamo contenti di supportare queste manifestazioni, visto anche che il campo scuola, completamente rifato, è una pista di atletica veramente ambita per allenamenti e gare. Dopo questa manifestazione inizieranno le attività dei vari campionati federali, delle varie categorie, dove i nostri atleti sicuramente avranno delle grosse chance di ben figurare. Siete soddisfatti finora? Molto. Diciamo che stiamo andando per la strada giusta. Passiamo a parlare di calcio dei Rioni, perché si è disputata la Supercoppa dei Rioni della Piana. A trionfare è stato il Rione Ugna. È con il gol di Matteo Barni che il Rione Ugna di Montale vince la Supercoppa del Torneo dei Rioni 2024. Allo stadio comunale Aldonelli di Montemurlo si è svolto il torneo triangolare tra i Rioni usciti vittoriosi dai rispettivi pali del 2023 di Quarrata, Montale e Montemurlo. Il Rione Ugna di Montale vince per 1-0 la finalissima contro il Rione Strada Molino di Montemurlo, terzo classificato il Rione dell'Urso di Quarrata. Tanta soddisfazione perché era la prima partita che conta e quindi ci fa sempre piacere quando si vince. Questi ragazzi lo meritano perché sono un bel gruppo e siamo stati bravi. Questa Supercoppa era nata diversi anni fa come quadrangolare che comprendeva anche i Rioni di Agliana però siamo riusciti a rifarla rinascere. Su questo bellissimo campo è stata una bellissima serata, circa 500 partecipanti e il risultato è bene che ha premiato la squadra migliore, l'Ugna. Forza, Ugna! Una grande partecipazione al torneo di calcio per Alessandro Melani, il giovane pistoiese scomparso alcuni anni fa a seguito di una malattia e ricavato di questo evento è stato devoluto in beneficenza. Pistoia ha ricordato Alessandro Melani, giovane scomparso nel 2019 a seguito di una malattia con un evento di beneficenza organizzato da suoi amici al campo sportivo Frascari. Un triangolare di calcio tra acci in melo, circolo sperone e rame di cambianco che ha visto la partecipazione di tanti amici, conoscenti e nuove leve. Tutto per il ricordo di Alessandro e per devolvere il ricavato in beneficenza ad associazioni che fanno ricerca per le cure oncologiche. Siamo contenti di essere anche quest'anno al Boario a fare il quinto evento del memoria all'Alessandro Melani che si disputa tutti gli anni dal 2019, è un evento benefico promosso dalla WISP e patrocinato dal comune di Pistoia e appunto la finalità è quella di raccogliere fondi in memoria di Alessandro Melani, prematuramente scomparso il nostro amico nel 2019. Da quell'anno abbiamo iniziato a organizzare degli eventi appunto di commemorazione e siamo contenti di essere arrivati a questo quinto anno consecutivo con una grande partecipazione che ricorda a tutti la grande amicizia che ci lega ad Alessandro e appunto per la sua memoria che per noi è fondamentale, ci tiene tutti uniti. C'è un ricordo di Alessandro magari legato alla malattia positivo ti chiedo, cioè qualcosa che è stato un messaggio? Il messaggio che lui ci ha sempre trasmesso è stato quello dello stare insieme, dell'essere legati a lui in tutte le fasi anche e noi lo ricordiamo anche attraverso questi oggetti, questo merchandising, la maglietta quest'anno e il cappellino che abbiamo fatto che lo ritraggono in una posa esultante perché lui era questo ed è ancora questo per noi, cioè un grande amico che aveva sempre il sorriso anche nei momenti peggiori, aveva sempre una parola di conforto per tutti. E' partita dalla montagna pistoiese, dal 41esimo rally degli Abeti e della Betone, la quarta stagione della campionato provinciale Pistoia a memoria al Roberto Misseri, promosso da ACI Pistoia. La prima gara ha visto scattare al comando un binomio di piloti che negli ultimi tempi hanno dato lustro all'automobilismo pistoiese, Alessandro Ciardi e Daniele Silvestri a pari merito con 11 punti. L'esperto Alessandro Ciardi ha regalato una prestazione cristallina che gli ha fatto ottenere anche il sesto posto assoluto, Daniele Silvestri ha portato invece la sua Peugeot 208 Rally 4 al successo tra le due ruote motrici, nonché al decimo posto assoluto. Termina qua il TG Sport, restate con noi per tutti gli altri ulteriori aggiornamenti e a tutti voi una buona serata.